Guardati un po' quello che ho, è una raccolta preziosa, lo so, mi sembrerà che io sia una che ha tutto ormai. Che tesori, che ricchezze, chi mai al mondo ne ha quanto me, se guardo intorno dirai, oh, che meraviglie. Ho le cose più strane e curiose, non ho nulla da desiderare, vuoi un come si chiama? Io ne ho venti, ma lassù cosa mai ci sarà? Imparerei tutto, già lo so, vorrei provare anche a ballare e camminare su quei... come si chiamano? Ah, piedi! Con le mie pinne non si può far, vorrei le gambe per saltare e andare a spazio per la... come si dice? Strada, vedrei anch'io la gente che al sole sempre sta con me e vorrei essermi senza perché. Libertà, come vorrei poter uscire fuori dall'acqua e pagherei le stare un po' straia dal sole. Scommetto che sulla terra le figlie non le scritano mai e nella vita fanno in fretta ad impararti. Si sanno incantare e conoscono ogni risposta a ciò che chiedi. Cos'è un fuoco e sai perché? Come si dice? Brucia! Ma un giorno anch'io se mai potrò esplorerò la riva lassù fuori dal mare come vorrei vivere la... Sì!